Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti preghiamo Signore, manda su di noi il tuo Santo Spirito perché questa parola diventi viva per tutti, viva, forte, profonda e sia quella che essa è per definizione, non parola di uomo ma parola di Dio con tutti gli effetti che questa ha da fare in noi stessi. Per Cristo nostro Signore. Allora noi stiamo nel genio libro della Genesi, la volta scorsa abbiamo visto Abramo che si è impegnato con tre persone misteriose che stavano passando, le ha fatte fermare riconoscendo in loro la presenza di Dio, Dio che ne è venuto a visitarle e quegli uomini rimangono un giorno con lui. Alla fine di questo giorno Abramo ha la promessa che l'anno dopo, nello stesso periodo, avrebbe avuto tra le braccia il bambino. Sarà, in credo ancora, si mette a ridere di nascosto nella tenda dove si trovava ad origliare quello che dicevano gli uomini. Abramo invece aveva completato il suo cammino di fede, era diventato un uomo credente nella promessa di Dio con una fede superiore alle leggi della natura, alle forze del male. Quindi dice proprio sia il libro della Genesi sia San Paolo ne fa eco, a lui viene accreditato il bambino come aveva creduto? San Paolo fa questo discorso che nella vita naturale, per esempio lo stipendio, viene accreditato al lavoratore per via del contratto. Tu fai questo lavoro, ogni mese ti darò 1200 euro e allora tu ogni mese ricevi 1200 euro. Con Dio non si possono fare contratti, non esistono contratti con Dio e nessuno può mettere Dio in debito verso se stesso. Con Dio le cose si ottengono per fede. Dio le promette nel suo amore per noi, noi le crediamo. Il credere ci rende degni, pronti, capaci di ricevere la sua promessa. La sua promessa si realizza in noi e ci viene accreditato così come era giusto che doveva essere. La grazia ci viene data. Oggi abbiamo avuto un magnifico esempio della Madonna, nella lettura dell'Evangelio di questo giorno, alla quale l'Angelo parla, cioè gli annuncia la parola di Dio. La Madonna ascolta, fa le sue domande per verificare come si sarebbe avvenuta questa promessa. L'Angelo spiega, ancora più potentemente, di come aveva annunciato, e cioè che attraverso l'intervento diretto dello Spirito Santo questo miracolo sarebbe avvenuto, la Madonna afferra questa grande realtà e si offre buttando se stessa in questa parola, in questa promessa, con il suo, non semplicemente Fiat, ma con il suo eccomi, si faccia secondo la tua parola in me. Quindi la fede che si è dimostrata in Maria come offerta all'adempimento della parola di Dio su se stessa, la rende elevata al punto tale da essere degna di ricevere quella promessa, e quella promessa della parola di Dio si incarna in lei, mediante un miracolo straordinario, che è l'incarnazione, operato velo Spirito Santo. Questo meccanismo, chiamiamolo così, queste varie fasi, sono presenti in ogni miracolo che Dio fa nella nostra vita, di qualsiasi categoria, anche semplicemente fisico, con la guarigione del corpo, e sempre presente nel dinamismo Dio-Uomo. Allora, che cosa succede dopo di questo? Leggiamo Genesi, capitolo 18, versetti 16-33. Quegli uomini, si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, Sodoma una grande città, mentre Abramo li accompagnava per concedarli. Il Signore diceva, devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto perché gli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la vita del Signore ed agire con giustizia e diritto, perché il Signore compie per Abramo quanto gli ha promesso. Dio allora disse allora il Signore, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Sodoma, una città vicina a Gomorra, vivono in uno stato di peccato così grande e così grave che Dio ha una brutta intenzione nei confronti di queste due città. Vediamo un pochino meglio. Quello che leggeremo fra poco non c'è scritto qual è il peccato di Sodoma e di Gomorra, lo vedremo nel prossimo incontro, nel seguito di questa storia. però il fatto che esistano città dove il livello del male sia salito a dismisura pare di leggere una cosa riguardante i nostri tempi. Vi ricordate poco prima, ai tempi di Noè, gli abitanti della Terra si erano così corrotti che dal cuore e dalla testa delle persone non venivano fuori altro che pensieri e desideri cattivi. di fronte al disastro morale e spirituale dell'umanità Dio decide il diluvio universale, fa morire tutti, salva soltanto l'unica famiglia giusta presente sulla Terra, quella di Noè, e ricomincia l'umanità. Qui siamo in situazione vicina, non tutta l'umanità, ma due città importanti sono arrivate a questo livello di peccato, quello che c'è, i membri della comunità, delle città, tirano fuori dal loro cuore, dalla loro testa, solo pensieri e desideri cattivi e li mettono in pratica. Che cosa avvenne? Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Che significa questo? Che due uomini andarono a Sodoma e il terzo rimase con Abramo. Questo con cui Abramo stava parlando era il Signore. Lui, quindi Abramo, stava alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e disse a lui, al Signore, davvero sterminerai il giusto con l'Empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Sia lontano da te il far morire il giusto con l'Empio, così che il giusto si è trattato come l'Empio. Lontano da te forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Ecco, mettiamo una cifra ipotetica che Sodoma e Gomorra avessero in totale un milione di abitanti. dice Abramo tu li vuoi sterminare tutti però se in questo milione di abitanti ci sono 50 persone che invece di essere corrotti, perversi e peccatori come tutti sono delle persone giuste, cioè sante, allora che fai? Tu ammazzi pure le persone innocenti e sante dove fai la tessa fine dei peccatori? non sarebbe una cosa giusta questa. Questo che sta facendo Abramo con Dio, con il Signore, non è soltanto un dialogo, è una preghiera, una richiesta di salvezza e di perdono. Quindi Abramo in questo caso viene fuori come un intercessore, uno che sta lottando perché un disastro tremendo che deve avvenire non avvenga e si salvino le persone alle quali questo disastro era destinato. Rispose il Signore se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto il luogo. 50 giusti valevano per un milione di persone non giuste. Abramo riprese e disse vedi come riesco a parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere, forse 50 giusti ne mancheranno 5, per questi 5 distruggerai tutta la città? Quanto siamo esperti a fare questi discorsi con Dio, noi proprio di sconti e sconticini di strade tortuose per arrivare al risultato. Rispose il Signore non la distruggerò se me ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse forse là se ne troveranno 40. Rispose non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese Abramo non ti a dire il mio Signore se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose non lo farò se me ne troverò 30. Riprese vedi come ardisco a parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose non lo distruggerò per riguardo ai 20. Riprese non si a dire il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Questa è l'ultima, forse là se ne troveranno 10. Rispose il Signore non la distruggerò per riguardo a quei 10. Quindi Dio avrebbe salvato dalla distruzione un milione di persone peccatrici delinquenti per 10 giusti. La domanda subito sarebbe si trovarono a Sodoma e Gomorra 10 giusti? L'unica famiglia di persone erette in questa città era cura di Lot che era il nipote di Abramo. Lui la moglie e due figlie vergine. Quattro persone non 10. Allora vedete che disastro c'era in questa città. Comunque adesso quello che succederà lo vedremo la prossima volta. Adesso ci interessa questo. Abramo innanzitutto è la presenza di Dio. Si può pregare senza essere alla presenza di Dio? Che cosa facciamo? Quando preghiamo parliamo da soli? I matti parlano da soli o parlano dal muro? chi prega non parla da solo parla a Dio e non è che uno se lo deve inventare che Dio c'è e fare un discorso di fantasia della testa Dio c'è quando uno prega sperimenta la sua presenza tanto che si trova a pregare da solo tanto che prega con la sua famigliola tanto che prega con un'assemblea di 300 500 2.000 persone tutti quelli che pregano pregano davanti alla presenza di Dio Abramo conosceva Sodoma e Gomorra e sapeva della loro situazione spirituale guardate queste cose qui sono cose storiche perché potete trovare sulle cartine bibliche dove trovavano queste città Sodoma e Gomorra ai tempi di Abramo grandi città con livelli di corruzione soprattutto in campo sessuale e morale perversioni tremende le nostre grandi città le nostre popolazioni sono indirizzate in questa direzione oggi le varie corruzioni che avvengono fanno sempre meno scandalo e sono sempre più normali c'è un processo di degrado morale che di degradozione in degradozione peggiora e non si sa dove arriva senza fondo in passato un amore omosessuale era considerato qualche cosa tremendo rapporti fifici omosessuali è un peccato mortale adesso è amore non si può toccare così si maschera la cosa Obama quando in alcuni stati americani è stato accettato il matrimonio omosessuale in stati dove magari la tradizione religiosa aveva impedito a queste leggi di passare il vecchio umano presidente prima di Trump ha detto ha vinto l'amore l'amore vince sempre l'amore omosessuale è un amore vero o un amore diabolico Dio ha fatto l'uomo maschio e femmina ha fatto il maschio per la femmina e la femmina per il maschio non ha fatto il maschio per il maschio e la femmina per la femmina e dall'unione di due sessi diversi nascono i figli dall'unione di due sessi uguali non nasce proprio nulla è un amore sterile l'amore l'amore omosessuale è un amore contro natura quando si parla di amore affettivo quando si parla di amore fisico gli atti omosessuali quando questi sono comandati soltanto la ricerca del piacere mi ricordo l'esperienza di confessore di un uomo che aveva la ditta sulla bonifica sposato con quattro figli quindi non è che lui della testualità fosse digiuno quattro figli a furia di passare ogni giorno lui aveva la sua ditta vicino al joint degli omosessuali il joint significa il pezzo della bonifica gestito dalle bande che tenevano gli omosessuali i trans a prostituirsi beh lui un giorno si è fermato e ha avuto un rapporto sessuale con uno di questi e cosa succede? gli omosessuali per riuscire a gareggiare con le prostitute e avere loro i clienti per poter fare i soldi sono più depravati delle prostitute e concedono ai clienti quello che le prostitute femmine non concedono altrimenti convorebbero fare i soldi quest'uomo che andò questo imprenditore cominciò ad avere il vizio degli omosessuali lui non lo era non lo è ma diventato però siamo noi di tumore mi chiamò per una delle ultime confessioni della sua vita quando stava sul letto in ospedale forse l'ultima e lui disse così che quando è il criterio del piacere e non l'amore a gestire la scelta di dirirsi insieme alla fine non importa più se il partner sia dello stesso sesso o dell'altro sesso l'importante è che ti dia piacere questo fa degradare fa diventare perversione quel gesto ricordate i sette visi capitali i primi due quali sono gola e lussuria detti in termini più moderni gola ed erotismo domanda è peccato provare piacere quando si mangia sì o no rispondete voi no è giusto questa cosa o no il piacere del mangiare è di per natura le papille gustative sono state fatte da Dio e rendono il mangiare in una tortura ma la cosa piacevole allora perché la gola è un vizio l'ingordigia allora quando il piacere del mangiare sovrasta il bisogno del mangiare cioè non si mangia per vivere ma si vive per mangiare si usa la vita per provare il piacere del mangiare ricordate che gli antichi romani quando facevano i grandi banchetti grandi feste mangiavano mangiavano quando c'era la pancia piena che non c'entrava più che facevano per mangiare ancora andavano di fuori si mettevano di ten gola vomitavano tutto e ricominciavano a mangiare perché per loro non era importante mangiare era importante il piacere che si provava quando si mangiava ecco questa cosa qui è un disastro per la salute della persona perché se uno mangia per il piacere mangia dieci volte più di necessario di quello che serve per vivere e sbalesta tutto e fa venire un sacco di malattie allora è un vizio ed è una cosa disastrosa questo è il campo della gola rapportando questa cosa nel campo della sessualità quando non l'amore ma il piacere diventa il criterio dell'unione uomo-donna alla fine l'unione uomo-donna o un uomo-uomo è la stessa cosa basta provare il piacere dell'unione allora un gesto che sarebbe una cosa elevata e grande dove si provava piacere per natura per volere di Dio diventa perversione perché quel gesto non è più finalizzato all'amore coniugale ma è finalizzato alla ricerca di piacere questo era il guaio degli abitanti di Sodoma di Gomorra per i quali la sessualità era diventata una ricerca di piacere fisico e basta per cui si faceva di tutto per avere questa e sentiremo prossima volta dove erano arrivati quello che per un tempo era una cosa tremenda tanto da smuovere Dio a far distruggere le due città oggi viene sempre più considerato come una cosa normale o di vicino per cui si deve chiedersi se Dio distrusse Sodoma e Gomorra per il peccato della depravazione sessuale oggi che c'è questo più che altri tipi di peccato che rovinano la nostra società che cosa dovrebbe fare Dio c'è chi dice che il braccio punitivo del Signore è sorretto solo dalla Madonna scusate è sorretto è tenuto fermo solo dalla Madonna e se la Madonna smettesse di fare il suo compito di madre il braccio del Signore cadrebbe giù sulla terra e poi lo chi trova vedete questa cosa qui la misericordia di Dio non può togliere la giustizia di Dio Dio non è solo misericordioso è anche giusto anzi in un periodo di tempo viene così prima Dio è giusto poi è misericordioso per quale motivo? ecco una famiglia i genitori hanno una regola al figlio all'una si mangia alle otto la sera si mangia tu puoi stagire però alle quattro si studia eccetera eccetera poi se il figlio non lo fa si ribella si accoglie di aver sbagliato e chiede scusa il padre può essere misericordioso non lo punisce non lo mette in punizione ma prima c'è la giustizia in ordine di tempo una famiglia senza regole senza un ordine sarebbe un disastro una famiglia ben ordinata ha le sue regole e quando si sgarra qualcuno di queste la misericordia li mette le cose a posto ma prima di non esistere queste regole quindi Dio è giusto e poi misericordioso quando l'abuso della misericordia divina rende inutile l'esercizio della misericordia perché proprio quella della quale si abusa per poter continuare a fare i nuovi peccati e viverci dentro senza nessuna correzione allora che cosa fa Dio ritira la sua misericordia e fa tornare la sua giustizia è povero che ci capita perché scontrarsi con il Dio giusto è una cosa tremenda non parliamo di scontrarsi con il Dio con l'ira di Dio di fronte che si accende di fronte alle grandi ingiustizie che fanno patire i piccoli di questo mondo bene adesso andiamo a vedere qualcosa della preghiera di Abramo questa è una delle prime volte che vediamo Abramo così in preghiera e vedete Abramo non conosceva il rosario non esisteva a quei tempi questa preghiera non c'erano neanche i salmi dell'Antico Testamento gli ha fatti Davide diversi secoli dopo lui sapeva soltanto fare una cosa parlare con Dio e ha parlato allora ancora una volta la preghiera è un dialogo quello che c'è da dire a Dio lo dice Abramo che aveva capito che Dio aveva intenzione di distruggere tutto cerca di impedire questa cosa portando avanti le motivazioni giuste per le quali questo non sarebbe dovuto accadere la motivazione più giusta che Abramo trova è che qui potrebbero essere delle persone giuste in queste grandi città allora tu non puoi far morire dare la pulizione ai santi come i peccatori come non so qualche volta c'è una mamma giovane malata di tumore chiediamo al Signore di cuorirla e diciamo a Dio ma Signore non ti fanno pena questi figli piccoli che rimanebbero senza mamma se la mamma cuorisce muore di tumore chiediamo facendo leva sulla compassione di Dio per avere la motivazione per il suo intervento di guarigione nei confronti con la donna malata Abramo sta cercando di fare la stessa cosa sta cercando di trovare quelle motivazioni per le quali Soto e Gomorra non dovessero essere distrutte lui sta combattendo non perché Soto e Gomorra continuassero a fare liberamente dei peccati ma per evitare uno sterminio che sarebbe la fine di tutto forse si poteva fare qualche cosa di più nel senso dell'evangelizzazione della conversione qualche pecora nera si è potuta diventare pecora bianca con maggior impegno da parte di Abramo e di altri di Lot qualche cosa sarebbe cambiata allora quando Abramo prega prega e chiede che la salvezza di Dio si estenda su quella città cioè che questa città non sia colpita dalla posizione divina lui sta pregando mettiamo fosse un milione di persone per la salvezza di un milione di persone ma lui Abramo da solo che cosa può fare per un milione di persone come può agire incidendo contemporaneamente nella vita di questo milione di persone lui da solo non può nulla ma siccome il suo interlocutore è quel Dio che avrebbe operato il disastro se Dio cambiava idea tutti salvavano allora lui agisce presso di Dio il risultato di questa azione se andava in porto era la salvezza di un milione di persone Abramo cioè si rende conto che quando prega non parla con un essere umano qualsiasi che ha un potere molto limitato quando Abramo prega parla con Dio il quale può tutto se tu parli con l'onipotente con colui che può tutto la tua preghiera è onnipotente la nostra preghiera può tutto capite la cosa grande la grande chiave della preghiera è questa che siccome il nostro interlocutore è Dio che può tutto la nostra preghiera può tutto è onnipotente per cui ha valore o no la nostra preghiera è tempo sprecato stare lì fermi in preghiera o no tempo veramente bene utilizzato può tutto se Dio dice di una cosa tutto va in un senso se Dio decide di un'altra tutto va in un altro senso in un altro verso quante cose storte si possono cambiare con la forza delle nostre preghiere per intervento di Dio capite perché Gesù Cristo stando con il suo discemo dell'ultima dice così chiedetevi sarà dato finora non avete chiesto nulla nel mio nome chiedetevi sarà dato e dice questo collegato al fatto che lui voleva che i suoi discemo riportassero molto frutto il portare poco o molto frutto dipendeva dalla preghiera se chiedete chiedete molto potete portare molto frutto se chiedete poco o non chiedete per niente che frutto portate mi ha sempre colpito questa cosa ecco non c'è un'altra di voi in realtà del matrimonio se il conige che vi sta a fianco fosse un conige un appendice della vostra personalità fai questo così lo faccio fai quest'anno così lo faccio uno schiavo una persona senza identità senza creatività senza libertà senza originalità nel vostro rapporto coniugale marito moglie non sto parlando del rapporto fisico sto parlando del rapporto spirituale affettivo rimaneste insoddisfatti perché non avete di fronte un tu ma un clone del vostro io o un appendice della vostra personalità non una persona diversa un tu alla terza altezza nostra con la quale potresti confrontare parlare di erogare decidere e qualche volta anche scontrarsi Dio ama le persone sottomesse o ama le persone vive le persone che hanno carattere che hanno personalità che sanno muoversi che sanno decidere che sanno partire San Paolo era di un carattere così cocciuto così ostinato noi diremmo oggi un integralista del Vecchio Testamento che Dio ha pensato questo se converto San Paolo salvo un milione di anime un milione e lui sapeva Dio che San Paolo non si avrebbe convertito neanche se andava a predicare Pietro capo della chiesa in persona per convertire San Paolo si è voluto andare lui stesso a Gesù Cristo da Padigli il suo figlio di Damasco l'ha fatto gli è apparso come luce e poi dice io sono quello di Cristo che tu perseguiti tu sei colpevole di perseguitare non i cristiani di perseguitare me che sono Cristo presente nei cristiani che tu perseguiti quando San Paolo riconosce questo si prende e si converte Dio sa che attraverso la sua conversione si è guadagnato un milione di anime perché San Paolo ha messo a fuoco il mondo di allora annunciando il Vangelo dovunque con la potenza dello Spirito Santo con i segni e con i miracoli per portare le anime a Dio per far riconoscere che è il Gesù Cristo allora Dio nella preghiera ama quelli che chiedono quelli che combattono non quelli che sottometrano sia fatta la tua volontà finito quel vittimismo spirituale che tanto le cose devono andare sempre come devono andare non cambia nulla non piace a Dio Dio ama persone vive nella preghiera che sanno chiedere non sto parlando di persone ribelli persone che sanno chiedere persone vive persone che creano storia che creano situazioni che creano miracoli che creano uno spazio per l'intervento divino nella storia umana allora Abramo fa una lotta con Dio perché vuole salvare Sodoma e Gomorra fa bene a fare così Dio lo premia sempre basta che dieci persone giuste io salvo Sodoma e Gomorra non distruggo più non farò morire questi qui poveracci che non hanno colpito di niente insieme a quelli che hanno colpa e che si meritano di distruzione ecco allora Abramo contento di questa cosa se ne va soddisfatto perché lui può essere che un po' tra queste non ci stanno dice persone giuste lui non sapeva quando era corrotta la città di Sodoma e quando era corrotta la città di Gomorra per cui lui pensa se ne va via e gli torna la sua abitazione pensando di aver ottenuto quello che aveva chiesto ma così non è bene allora io adesso vi lascio i fogli con il brano che abbiamo letto e prego di distribuirli Lidia coraggio ad Angela Pasqualina Valentina Barbara Sandrini Salvatore Paolo Maria che chiede di pregare per la salute di Lorenzo e pregare e pregaremo per l'orento dove un attimo è la messa milotto e mezza allora vedete che in fondo a questo foglio ho messo tre domande così una che dovete restituire la prossima volta vi faccio la verifica o il voto promosso bocciato queste sono domande per la vostra riflessione personale domande che servono per chi non cada a vuoto e non cada nell'oblio soprattutto quello che abbiamo detto questa sera allora prima di questa cosa qua Abramo prega la presenza del Signore quando preghi fai altrettanto preghi alla presenza del Signore seconda domanda di fronte alla sterminata desolazione di Sodoma non quella dei tempi di Abramo 1800 anni fa ma quella di oggi la nostra Sodoma ti scoraggi o regisci pregando? vedi che il male è insormontabile per quanto è grande non si può fare nulla oppure c'è qualcuno che può fare tutto nel primo caso ti piglia depressione spirituale nel secondo caso devi lottare una battaglia durissima quella della preghiera sapendo però che c'è uno più grande del peccato di Sodoma e Gomorra dei nostri tempi terza cosa questo è importantissimo perché vale per ogni cosa un malato terminale di tumore si ferma quando arrivano questa malattia tremenda è incurabile è un carcinoma infiltrante della peggiore categoria resistente alle medicine cioè le farmaci non gli fanno nulla veloce a proliferare in metastasi se uno si ferma a contemplare quanto è grande il male ti spari dimentica il male quanto è grande e preghi colui che è più grande del grande male e allora reagisci aggrappandosi di Dio invocando lui e superi il male quindi questa è una domanda apparentemente scontata come risposta di fatto poi si vede nella vita di tutti i giorni se non rispondiamo di sì o di no a questa domanda se ci scoraggiamo oggi andiamo pregando ultima domanda nel popolo dove noi viviamo ci sono dieci giusti per i quali Dio non manderà il castigo e che se non ci sono invece Dio lo manderà e questo è un punto interrogativo ecco allora questo vale anche per voi che ascoltate da internet ripeto le tre domande prima domanda Abramo prega alla presente del Signore quando preghi fai altrettanto seconda domanda di fronte alla sterminata desorazione di Sodoma ti scoraggi o ragisci pregando questa è una cosa fondamentale per qualsiasi stato di vita per una malattia per i debiti per i figli che fanno un disastro per il governo ladro per qualsiasi cosa e terza domanda mi sono dieci giusti tre membri del tuo popolo in base a questo poi capiremo l'algine di Dio futuro bene in piedi tenete per voi basta che lo meditate signore ti preghiamo grazie per l'esempio di Abramo che ha saputo intessere con te la grande realtà della preghiera la preghiera di intercassione per la salvetta del suo popolo oggi signore dobbiamo fare lo stesso il popolo tu è composto di peccatori e noi non siamo esenti siamo in mezzo a questi salva signore i peccatori salva coloro che ti sono nemiti ti sono lontano ti guardano di traverso persone schiave dei viti dei peccati di qualsiasi categoria e genere signore non mandare lo sterminio ma manda una grande potenza di conversione di guarigione di liberazione perché tutta l'umanità ti conosca e possa tornare a te te lo chiediamo Dio Onipotente per Cristo Gesù nostro Signore e la benedizione di Dio il Padre il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre amén grazie